Torre del Greco è una grande città della campagna che merita attenzione da parte del governo, una città dalle grandi potenzialità. Grande partecipazione sabato sera all'hotel Poseidon per l'intervento in città del vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani, a sostegno del candidato sindaco Ciro Borriello. Torre del Greco è una grande città della campagna che merita attenzione da parte del governo, che merita attenzione da parte delle forze politiche perché è una città che ha grandi potenzialità, è una città che ha un'industria fiorente che è quella del corallo, famosa in tutto il mondo. Abbiamo il dovere di sostenere le esportazioni, di favorire una penetrazione nei mercati più importanti dove già c'è una conoscenza, penso al Giappone ma non solo, quindi le opportunità dovranno essere ricercate, dovrà essere utilizzato lo strumento dell'ICE, di SIMES, di SACE per favorire l'internazionalizzazione e moltiplicare l'export di questo prodotto. Tajani ha poi focalizzato l'attenzione sul lavoro, dobbiamo dare a questo territorio una vera politica industriale, in primis attraverso l'inserimento di Torre del Greco nelle zone economiche speciali. Far parte della ZES significa avere una serie di agevolazioni e autorizzazioni che risolvono una lunga serie di problemi burocratici e fiscali. C'è un altro tema che è quello della ZES, se ci sarà una richiesta io credo che si dovrà valutare con grande attenzione, farà tutto ciò che è possibile per inserire Torre del Greco nella ZES, quindi puntare molto sull'economia perché se le imprese funzionano c'è più lavoro e noi dobbiamo abbattere assolutamente la disoccupazione giovanile nel sud d'Italia in modo particolare in Campania. Dal rilancio economico del territorio al diritto alla salute pubblica pensando al futuro dell'ospedale Maresca. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si è impegnato a risolvere le criticità evidenziate. La sanità di competenza regionale è giusto risolvere il problema, io mi auguro che il presidente della regione seguo con attenzione questa parte del territorio, augurandomi che non si comporti in maniera diversa come si comporta nelle realtà che sono a lui più vicine. Poi ha proseguito il ministro, è necessario sostenere gli imprenditori e gli artigiani del territorio, in particolare i maestri del corallo e del cammeo, bisogna favorire l'internazionalizzazione permettendo alle imprese di aumentare le esportazioni all'estero. Noi siamo pronti ad aiutare questo territorio perché possa veder crescere la propria rete economica imprenditoriale, anche l'industria del corallo deve essere aiutata, per quanto mi riguarda cerco di fare tutto per aumentare le esportazioni in realtà come quella giapponese dove già c'è una grande conoscenza del corallo ma anche all'interno del mercato europeo. Grande l'entusiasmo del candidato sindaco Ciro Borriello per la vicinanza del governo. È la prima volta nella mia lunga storia politica che ho fatto il parlamentare, otto anni il sindaco, che sento veramente il governo così vicino da poterlo toccare con mano. Questo mi dà grande entusiasmo perché senza l'aiuto del governo i problemi cronici di che non sarebbero neanche difficilissime perché i nostri imprenditori non chiedono soldi ma chiedono snellimenti e diciamo sburocratizzazione. Già il nostro presidente Berlusconi mi ricordo il suo slogan era un'impresa in un giorno. L'attuale premier Lameloni ha detto non disturbare chi vuole fare. Noi abbiamo un sacco di imprenditori che vogliono fare. Dobbiamo semplicemente metterli in condizione di fare e sicuramente la disoccupazione almeno a Torre del Greco sarà risolta. ZES in una parola cosa significa per Torre del Greco? È molto semplice. Snellimento della burocrazia, velocizzazione delle pratiche, possibilità di superare in alcuni casi anche i vincoli urbanistici e paesaggistici. Significa che finalmente le nostre imprese non dovranno più delocalizzare le loro attività come ben sapete tutti voi ma finalmente potranno stare a casa loro.